E poi non ce l'hai detto che non darò. Faccio la volta. E poi non hai detto che non ce l'hai detto. E poi non ce l'hai detto. E poi non ce l'hai detto. E poi non ce l'hai detto. Io. Con Francesco Vito. Tutti i tuoi mi faccio sparare. Faccio sparare. Perché? Ha già detto che il clima ce l'hai detto. Pura voglia di sparare. Però dopo un'altra scelta. E' una cosa proprio. Perché ero 16 anni. E non ce l'hai detto. Alla piazza d'articolo. Però l'interno. All'inizio del tetto. Ci faceva la festa dell'ultimo. L'ultimo. Che era una bella rinunata. Che c'era una bella rinunata. Che c'era un'amica merito. Che era una messa. E poi quando ci stavano tutte le pancette. Che tenevano le campanelle. Che lo cantavano dopoci. E' una bella rinunata. Che c'era una bella rinunata. E io lo guardavo. Non c'era più salvo per la catamana. Lo guardavo stessi. Lo guardavo tutto qua. Grazie a tutti. 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 Allora, a tutti. 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 a tutti.